Per favorire la ripresa economica, il Consiglio regionale ha stanziato oltre 100 milioni di euro mettendoli a disposizione di tutti i comuni lombardi nei prossimi due anni. L'entità del contributo è stabilita in base al numero di abitanti. Per i comuni fino a 3.000 residenti sono previsti 30.000 euro ciascuno fino ad arrivare a 1.100.000 euro per i comuni sopra i 250.000 abitanti. Infrastrutture, viabilità, sviluppo sostenibile e dissesto idrogeologico sono gli ambiti che possono essere interessati dai progetti e dagli interventi. I comuni beneficiari dovranno affidare i lavori per la realizzazione delle opere entro il 10 settembre di ciascun anno, appena la perdita del contributo. Il provvedimento di oggi lo ritengo importante per tre ragioni. Il primo è che è un ringraziamento per il grande lavoro che hanno fatto i sindaci in questo anno di pandemia. Il secondo è perché i propri sindaci conoscono le esigenze delle proprie comunità. E il terzo perché sono soldi che devono essere messi in circolo e quindi hanno un valore anche rispetto al grande tema della ripartenza economica.